Crisignano di Zocco, rapinata in pieno giorno la sala slot e giochi la dea bendata di Via Mazzini. Un uomo travisato da passamontagna e armato di coltello ha fatto irruzione nell'attività. Il malintenzionato ha puntato l'arma al collo del titolare a un 21 anni di origine cinesi. Si è fatto consegnare il contante costruito in cassa ben 5.000 euro per poi darsi alla fuga sul posto per l'indagine. I carabinieri che ora stanno visionando le immagini delle telecamere di video sorveglianza. Sossano, individuato e denunciato dai carabinieri l'autore dell'ennesima truffa online. Si tratta di un 58enne di nazionalità bulgara. L'uomo, attraverso il sito www.mevostever.it, ha messo in venta una scheda video per personal computer, attirando l'interesse di un 54enne residente a Valliona, che ha versato sul conto del bulgaro la somma di 386 euro. Peccato però che poi della scheda nemmeno l'ombra e il venditore truffatore si sia reso irreperibile almeno fino a quando i militari non sono riusciti a rintracciarlo. Schio, sebbene agli arresti domiciliari, Iarno Canè evade e continua a perseguitare l'ex compagna. I carabinieri lo arrestano ed espletate le formalità di rito è stato associato al carcere di Vicenza ad inchiodare l'uomo, i tracciati GPS, l'acquisizione di immagini, di telecamere e le dichiarazioni di testimoni.